Il piano ambientale Il piano ambientale Il piano ambientale E quindi anche l'impegno La quale il Consiglio Ci ha impegnato Rispetto al rigeneramento ambientale Di alcune strutture Fatiscenti che esistevano Però se ne sono ancora Esistono ancora Alcune strutture fatiscenti Ricettati dagli individui malavitosi E o dediti Alla droga Strutture che vanno risanate Anche il sistema di illuminazione Importante deterrente Per le aggressioni e le rapine Va migliorato Così come la sorveglianza Nei parchi e nei giardini Per evitare un uso improprio Degli stessi Quali il bivacco Le feste con uso di alcolici Che si protavangono Fino a notte fonda Come pensate Si possa rispondere Concretamente Alla esigenza Di miglioramento Di questi siti Soggetto ad abusi Continui di ogni genere Con quali risorse finanziarie In che viene affrontato Io direi questa risposta In tre punti Inizierei dalle telecamere Che sicuramente sono Uno strumento prezioso Anche se purtroppo Devo dire Si rivelano preziose Più nella fase post Creato Perché la rete di telecamere Che è stata costruita Implementata in questi anni Sul territorio Sono in zona 4 Ne sono state installate 30 A fine 2013 Inizio 2014 Altre 36 A fine 2015 Inizio 2016 E molte sono Anche qua nel vostro quartiere In qualche angolo particolare Ma purtroppo oggi Servono più Appunto come Controllo Post reato La prima aggressione Del farmacista In realtà I soggetti Sono stati Identificati Tramite le telecamere Nel percorso Che hanno fatto Di fuga E l'inchiesta In corso Perché hanno bene I loro visi Hanno identificato bene Chi sono Quindi stanno indagando Per prenderli Ma come prevenzione Sono ancora uno strumento Che dovrebbe riuscire A far paura E credo che Per poter far paura Come prevenzione A maggior ragione Deve funzionare L'utilizzo Post reato E qui torno al discorso Di denuncia Quindi denuncia Immediata Possibilmente Con tutte le indicazioni Possibili La cosa importante È che Fino al 2015 Le telecamere Che erano sul territorio Di Milano Erano collegate Alla centrale operativa In piazza Deccaria Che era una centrale Operativa storica Abbastanza importante Ma che era in sofferenza Per quello che è Milano E il numero delle telecamere Che si andavano A installare Dal fine 2015 La nuova centrale Operativa di controllo In via Drago Dove il comune Aveva messo a disposizione Lo spazio Per la centrale Di controllo Di Expo Quindi lì c'era La centrale di controllo Di Expo A cui sono state collegate Anche tutte le telecamere Del territorio E lì adesso È diventata La vera centrale Di controllo operativo Di Milano Collegata Anche con le forze Dell'ordine Quindi non è solo Della polizia locale Ma è una centrale A cui fanno capo Anche polizia di stato E carabinieri La delibera Che abbiamo fatto Tutti d'accordo È una delibera Che voleva porre In attesa Del bilancio preventivo Del comune Un primo obiettivo Per questa zona Sicuramente Chiunque di noi Arriverà Ad amministrare Il municipio La ripescherà Per riprendere In mano La questione E sollecitare L'investimento In quel senso Una cosa importante È il protocollo Che è stato avviato Che non tutti conoscono Dal comune di Milano Che è la possibilità Di mettere in rete Le telecamere private Quindi le telecamere Che i privati Mettono All'ingresso Dei propri condomini Con la centrale Operativa Del comune Questa è attiva Da circa un anno È una cosa Che non si riesce A pubblicizzare Tanto A far sapere tanto Ma chiunque Abbia la sua telecamera Privata Può contentare Il comune Di Milano E a sue spese Il comune Mette nel circuito Generale Quella telecamera In modo da avere Un ulteriore punto Di controllo In più Non dovendo duplicarlo Questo è il discorso Tutte le camere Che quindi personalmente Ritengo fondamentale Importante Per quanto riguarda I giardini I parchi Vissuti In modo Improprio Da comunità Di vario tipo Come Abbiamo detto In questi anni I privati Di persone Che sono Semplicemente Lì A bere E non fanno Reati Purtroppo Non possono Essere Quando sono Poche persone Che stanno Sulle panchine Allontanate Per legge O per O con forza Perché hanno il loro diritto Stare seduti lì Se non commettono Reati Certo Il passaggio Frequente Di polizia locale O forze dell'ordine Che controllano Verificano Magari chiedono I documenti Sarebbe un ottimo Deterrente E qui si ritorna Alla necessità Delle forze Sul territorio E tutti siamo D'accordo Sarebbero Importanti E fondamentali Anche in quel senso Mentre Per il discorso Dell'utilizzo Notturno Con Musica Sempre affiancata Anche da Notevoli Bevute Il modello Che si può applicare È quello Del parco Cassinis Che però Non ci nascondiamo Richiede un forte Investimento In personale Noi al parco Cassinis Avevamo Questo problema Siamo riusciti A zerarlo Con due modalità Sbarra d'accesso Chiusa E portale Che impedisce L'accesso Ai furgoni Che sono quelli Che portano I mezzi Le casse Le casse Le casse Sia Per gli strumenti Musicali Sia le casse Di alcolici Però il parco Cassinis Ha solo due Ingressi Quindi mettere Le sbarre Mettere delle pattuglie Che hanno controllato Per più è stato L'accesso Ha zerato Il problema Un posto Come il parco Galli Che è accessibile Da più parti Senza nessuna Possibilità Di chiusura Ovviamente Pone una sfida diversa Pone una sfida Di personale Che deve esserci Deve Arrivare E deve intercettarli All'inizio Queste persone Quando iniziano Ad arrivare Quando iniziano A essere In numero Ampio Quando iniziano A scaricare Casse di birre Casse di alcolici In modo che Lì si può fare Un controllo Si possono sequestrare Birre Casse Perché poi Vengono vendute Si sa Come è stato fatto Al Cassinis Ma appunto Questo richiede Un numero Di forze Dell'ordine Più che altro Di polizia locale Perché la polizia locale Poi è quella A cui si chiede Di fare queste cose Che in questo momento Che in questo momento Ci ha reso difficoltoso Fare servizi Di questo tipo Per il futuro Ripeto L'impegno è quello Su Aumentiamo le forze Dell'ordine Sala si è già impegnato Le forze di polizia locale Si è già impegnato Su questo È l'unica strada È passata una promessa Ma è diventata In realtà un problema Con tutti i privati Che hanno lasciato Gli edifici vuoti L'unica strada È quella che abbiamo Intrapreso E che ha tempi Un po' più lunghi Perché dove ci sono Le proprietà Che sono ancora Proprietà in essere L'unica è riuscire A incontrarle Come amministrazione Evidenziare il problema Cercare di trovare Un accordo Con la proprietà Sulla pulizia E la messa in sicurezza Degli edifici Come è stato fatto Per l'edificio In fondo a Medici Del vascello Che nell'autunno 2011 Era occupato Da 400 persone Con la proprietà Si è riusciti A trovare un accordo A novembre 2011 È stato sgomberato La proprietà Ha messo la guardiania 24 ore su 24 Suo carico Giustamente Da allora Non è più stato rioccupato In quell'area Abbiamo impedito L'utilizzo Del parcheggio pubblico Sempre i Medici Del vascello Che era occupato Da roulotte camper Ponendo il portale E la sbarra Per l'accesso In Dione Cassio Altro tema Che è stato molto pesante In questo quartiere Con la presenza di Roma E l'occupazione abusiva Alla fine Siamo riusciti Tra ordinanze E accordi A convincere la proprietà A mettere in sicurezza Quell'edificio In modo sicuro Poi però Abbiamo realtà Dove Una è qui vicino a voi L'area di Malipiero Sono in ballo Fallimenti Curatori Non si sa A chi rivolgersi Nessuno risponde Se rispondono Non hanno i fondi E allora Su quella strada Abbiamo fatto Un primo Esperimento Quest'anno L'assessorato Alla sicurezza Nel bilancio D'assestamento 2015 Quindi quello Approvato Novembre 2015 Ha stanziato Un milione di euro Per gli interventi Strutturali Di messa in sicurezza Che fossero Di a repubblico O privati Con quel milione Di euro È riuscito Tra dopo Le varie ordinanze Di intimazione Privati Che non rispondevano A fare Una messa in sicurezza Sul palazzo Di via Lattanzio Angolo Colletta Che era un palazzo Oltre che Luogo di Droga Spaccio Degrado Anche molto Pericoloso Per chi stava All'interno Infatti una persona Morta Purtroppo Prima che L'ordinanza Avesse la sua Conclusione finale Ma con quei fondi Sono in corso Di avvio Anche I Lavori Di messa in sicurezza Sull'area A Rogoredo In Sant'Arialdo Quella che è famosa Come Bostetto Della Morte Dove c'è anche lì Un grosso Una grossa Area di spaccio Ecco La strada Di dove si trovano I fondi E' questa Si devono affrontare I privati Dove la proprietà È privata E i privati Ci sono Per trovare L'accordo Se non si trova L'accordo Procedere con L'unico strumento Che ha il comune Che sono le ordinanze Di messa in sicurezza Per problemi Di igiene E di pubblica Sicurezza E se il privato Non interviene Si deve essere In grado Come amministrazione Di avere dei fondi Per realizzare Il progetto E poi ci si Rivarra sul privato E lo stesso Si deve fare Per le aree pubbliche Stanziare i fondi Come La prima Su può intervenire In questo quartiere Se saremmo noi Rieletti E l'area Di via Cavriana Gatto Che è una grossa Ferita in questo quartiere E' in capo Ai lavori pubblici Reparto strade Fino ad oggi Non sono riusciti A metterla in sicurezza Per mancanza di fondi E' l'impegno Che ci siamo presi Con l'assessore Alla sicurezza Il prossimo intervento Su area pubblica In questa zona Sarà lì Perché è un'area Che in realtà Ci sta costando tantissimo Come interventi Della polizia locale Sgomberi E pagare AMSA Per le pulizie Perché è un continuo Inseguire le persone Che vanno A insediarsi E allontanarle Insediarsi Allontanarle E pulire Su questo quarto punto Allora Quello che trovo I gatti Di lamentare È vero No? C'è che Allora Nei vari marchi Che in questa zona Che non comincia In questo quartiere Dove è possibile Ripualificare Ocunque Migliorare Questo Dove si ottiene In che maniera Per esempio Potrei dire Una cosa evidente Che ho Visto Che È Il parco a sinist In cui È possibile Intervenire Con più facilità Perché Perché i programmi Sono più grandi Qui Nella nostra zona Non ho ancora Avvisato proprio bene I punti Dei parchi Ma È più evidente Ci sono gli edifici Edifici Che sono Sede di Perché Lasciate in disuso Sono veramente tanti 5 stelle Cosa prevede Come prevede Di affrontare Siccome 5 stelle Non prevede Di dare permessi Di cementificazione Ulteriore Vuole E affrontare Discosso Come Cercando Sempre Con il pubblico Di rimettere a posto A ciò che È trovato in disuso Cercando Di Darsi Che Il privato Quello che Non usa Per più tempo O che comunque Lo lascia L'abbandono Vuole In qualche maniera Aprire un discorso Dicendogli E facendogli capire Che Se hanno Un bene Ebbene O Cambiare In Utilizio Per esempio Un bene commerciale Che è Stoli Magari Chissà Propogli Di Diventare Un bene Residenziale Dove poter Affittare Magari Ad Dei cami Più Residenziali E comunque Non Si vede anche Parco La zona D'Oscalo Di Porta Vittoria Anche lì Ci sono Zone Verdi Che Per vari motivi Sono rimasti Abbandonati Anche se c'erano I buoni Progetti Ci sono Steli Vorrebbe Che I fatti Vengono Riqualificati Che In cui Si venga Resto Strutture Che Poi Chiaramente Al municipio Renderebbero Soldi Per esempio Magari Arei verdi Con Il piatto Autotone Però Anche Arei verdi In cui Ci sia La possibilità In cui Il cittadino Possa ritrovarsi Magari In ambienti Sportivi Sempre che Il municipio Gestisce E comunque Mette A disposizione Della cittadinanza L'importante È che 5 Stelle Per Diciamo Arginare La delinquenza E arginare Il malessere Che c'è Non dico Molo diffuso Perché si è andato Un bocchiliero Però C'è Esiste Vorrebbe Sì La riqualificazione Del verbo O Anche Aumentare Con le zone Poco illuminate Come Noi vediamo Nella L'Ungheria L'Ungheria Purtroppo Sembra Sud Ma Siamo in città Non è una zona Abbandonata Ma La luce Dovuto al fatto Che ci sono piante Che Belle Verdi Che Viene molto La frittura Con le loro Grosse foglie Oxtù Oxtù Costruiscono La luce La sera Si vedono Parecchie Difficoltà Si nota Che per esempio Famiglie O donne Passano Al buio E lì Al buio Come sappiamo benissimo Potrebbe C Qualcuno Che le aspetta Quindi Anche l'illuminazione È importante Come dicevate Sì L'illuminazione Deve essere Fatta Viste In modo migliore Magari Anche Non so Abbassando Questi Altri Minori Che Vengono Poi Oxtù Dagli Albi Chiaramente Non abbattendo Gli albi Ma rivedendo Il posizionamento Delle luci Ma abbassandole A un'altezza Che poi Illumina La strada In marcia A piede E le persone Possono uscire di casa Senza terrorizzarsi Come In marcia Come in marcia Ci sono Anche Anche Altre Vie In questo Quartiere Sicuramente Non mi sono Bisogna Sfuggite Ma esistono Questo è Uno Dei Voi Figgioni E poi In qual'altra Maniera Dicevamo Appunto L'intervento Come diceva In Corrado Di più persone Forse dell'ordine Del territorio In modo Però Ragionato Senza Militarizzare La zona Perché Militarizzare Una città E quindi Anche la zona Darebbe un senso Comunque All'opposto Da un disquilibrio Che succede C'è In guerra Non è guerra Ma è Voglio di Far partecipare Chiaramente Forse dell'ordine Verso i cittadini Vi fareste i presi Sicuri Però A suo tempo Dà la possibilità Di rendere Sicuri i cittadini Quindi Forse dell'ordine Sul territorio Zone Magari anche Di presidi fissi Ove Sia necessario Veramente Quindi In alcuni punti Vecco Illuminazione Mi hanno detto Rivolificazione In alcuni parti Alcune zone verdi Che per vari motivi Sono andate Alla deriva Coppa di nessuno In particolare Il balconio Ci sarà stata Però Ebbene Terminati di lì Di altro Comunque A dare la promessa Vorrei dire Noi vorremmo Veramente Che Ogni Gruppo di cittadini Che in questa zona In Cipro C'è presente Cosa ha visionato E cosa ha trovato E grazie a queste Come il vostro invitato O altri Rolpamenti Di persone Ma ria Andare in conto Puntualmente Non solo All'inizio La campagna elettorale O In zona Di tempo Delle elezioni Ma anche Diciamo Nei vari step Successivi Marini Totti Di sei mesi Tre mesi Rivedere la situazione Della zona Perché io penso Che come Il cipro stemme Abbia nessuno Diciamo Tra virolette Statuto Ogni elemente Ogni candidato Deve essere Rivalutato Nella sua fascia Operativa Così anche Le proposte Deve essere Viste Nell'ottica Di una risoluzione Parto da Questo aggeggio Quanti di voi Ce l'hanno In tasca O un po' Più grande Come quello Un po' Più piccolo Quale Nella sostanza Tecnologia Il Può essere Una Una cosa Estremamente Utile Per Le questioni Sollevate Da Da questa domanda Il Sistema Delle telecamere La richiesta Che è stata fatta Condivisa Da tutti In Consiglio Di zona È Quello che Milano Si dice Piuttosto che Niente Da noi Piuttosto Nel senso Che Sicuramente Non fanno Male Ma Sono Qualcosa Come è stato Giustamente Ricordato Da Loredana È limitata Utile Per Per Le Indagini Ma La Vibrosorveglianza Con le Tecnologie Che ci sono A giorno D'oggi Può Essere Qualcosa Di Sostanzialmente Diverso Ad esempio Che è un fatto Del Telefonino Chi Questo Lo sanno Magari Meglio I Guidatori Ci sono Un sacco Di applicazioni Con le Mappe E con Tastini Che Ciascuno Automobilista Schiaccia Tutte la Volta Che vede Un autovelox Una coda Dei lavori In corso Qualcosa Di strano O altro Questa È Dimostrazione Del fatto Di come Una Tecnologia Assolutamente Banale Alla portata Di chiunico E tanto Da essere Addirittura Gratuta Può Far Interagire Può Diciamo Comunicare A un'entità Centrale A determinate Situazioni Tanto Davvero Una Mappatura In tempo Reale Per cui Noi sappiamo Che Nella Talvia C'è Una Coda Se Le persone Fossero Dotate Di una Tecnologia Analoga Invece Diciamo Studiata Per le Questioni Legate Alla Sicurezza Avrebbe La Possibilità Per dire Di comunicare Magari In Tempo Reale In Questo Caso Alla Polizia Locale Se Parliamo Del Comune Di Milano Piuttosto Che Alle Forze Dell'ordine Più In Generale Un Determiato Fatto Quindi E Quindi Le Famose Statistiche Di cui Parlavamo Prima Magari La Resistenza Un po' Delle Persone A Segnalare A Denunciare Potrebbe Essere Anche Bypassata Da Sistemi Più Moderni Di Questo Tipo Come Ad Esempio Rimanendo Rimanendo In Termini Di Tecnologie Di Cose Che Potrebbero Essere Fatte Sono Fattibili La Vidosorveglianza Può Essere Anche Di Altro Tipo Esistono Dei Paesi Dove Sistemi Vidosorveglianza Sono Più Evoluti Rispetto Al Nostro Quindi Si Attivano Ad Esempio In Presenza Di Determinati Indicatori Quindi Non So Concentrazioni Sospetti Ovviamente Secondo Un Cervelo Eletronico Di Persone Piuttosto Che Le Fotocellule Applicate All'illuminazione Fanno sì Che Le luci Diventino Più Forti Ad Esempio Quando Passano Le Persone E Questo Diciamo È La Mediazione Tra L'esigenza Di Sicurezza E Risparmio Energetico Quindi Attraverso La tecnologia Un Uso Sapiente Degli Investimenti Consequenziali Ovviamente Ma questo Fa parte Delle Certe Politiche Di L'amministrazione Può Essere Utile L'investimento E L'attenzione Che è Stata Rivolta Questo Capitolo Negli Ultimi Anni È Nostro Modo Di Vedere È Stata Scarsa O Troppo L'amministra E Infatti Gli Effetti Un po' Si sono Si sono Visti Le altre Questioni Sollevate Dalla Dalla Domanda Una è In qualche Maniera Collegata Al discorso Che ho Appena Fatto Quello Che riguarda Diciamo La Questione Delle Delle Aree Verdi Del Fatto Che Magari Determiate Determiati Punti Dei Quartieri Possono Essere Oggetto Di Frequentazioni Non Urbane Di Modi Di Frequentare Il territorio Che Creano Problemi O Altro Se Si Interviene Celermente Prima Che Un Problema Cresca A livello Tale Da Diventare Qualcosa Di Complesso Da Gestire A mio Modo Di Vedere E Anche In Questo Caso Ci Siamo Trovati Spesso A Dibattere Perché Su Determiate Questioni Che Hanno Creato Molto Allarme Molto Disagio Molto Degrado Sul Territorio Del Nostro Municipio Si Arrivati Lunghi Troppo Lunghi Quando Per L'appunto Si Sapeva Assai Prima Quello Che Stava Succedendo Quindi Intervenire Celermente È Fondamentale È Vero Che Ci Sono Delle Esigenze Di Programmazione È Vero Che Chiaramente Non Si Può Fare Tutto Immediatamente Perché Questo Non È Non Realisticamente Possibile Però È Anche Vero Che Su Tante Cose Si È Aspettato Troppo E Si È Diciamo Chiuso Un po' Troppo Gli Occhi E Anche Qua C'è Una Diversità Diciamo Di Intensità E Di Priorità Di Scala Di Priorità Perché Di Fatto Questo È Amministrare Una Città Mettere Una Sere Di Priorità Uno Sopralato Proprio Per il Fatto Che Questo È Incontrovertibile La coperta È Corta E Quindi Di conseguenza Bisogna Fare Delle Scelte Ci devono Essere Delle Priorità Il Discorso Analogo Ma Sostanzialmente Diverso Quello Che Riguarda Invece Le Proprietà Qua Ragione È Vero Quello Che Diceva Loredana Prima Conta Tanto E C'è Una Grossa Diversità Su Quanto Attiene Alla Proprietà Spesso Non è Nemmeno Semplice E Immediato Capire Quale Sia È Stato Fatto Un Buon Lavoro Dalla Commissione Territorio Che È Negli Ultimi Cinque Anni Questo Appunto Perché Bisogna Dare A Cedere Quei Dicese Sulla Mappatura Ad esempio Dei Nuovi Dismessi Perché Già Avere Comunque La Cognizione Dove Sono Le cose Dove Stanno È Importante È Chiaro Che Servono Soldi Serve Anche Se Mi Permettete Fantasia Intraprendenza Perché Comunque Convolgendo I privati Convolgendo Le realtà Economiche L'imprenditore Le persone Che ci possono Possono Credere In determinati Progetti Comunque Si possono Realizzare Dei Miglioramenti Importanti E Interessanti In In Alta realtà È Stato Fatto Non Dico Che Ciò Non Sia Mai Stato Fatto Però Sicuramente È Un È Un È Un È È Un Sì Sì Per Quanto Riguarda Il discorso Delle Telecamere Avendo Condiviso Le Delibere Installazioni Superfolo Che Sono D'accordo Con Tutte Le Osservazioni Per Quanto Riguarda Invece Il Discorso Dei Parchi Per Quanto Riguarda Allora Ritorniamo Sempre Sul Ruolo Della Polizia Locale Quindi Sul Fatto Che Occorrono Più Risorse Di Poter Assumere Più Personale Che Queste Intervengano Non Solo In Caso Di Estrema Segnalazione Cioè Sanno Sempre La Coperta Corta Però Bisogna Intervenire Quindi Il discorso Dei Parchi Non Solo Qui Nello Specifico In Intervenuti Ma Intervenuti Solo In Altre Situazioni Intervenuti Cosa Vuol dire Comunque Far Intervenire La Polizia Locale Anche Non Solo I Motociclisti Se Arrivano Se Arriva La Segnalazione Ma Fallo Intervenire Preventivamente Per Evitare Non Solo Situazioni Di Come Diceva Qualcuno Il Fatto Che Bevano E Cetera Ma Si Va Oltre Persone Che Fanno Barbecue Che Si Mettono A Suonare Cantare Cetera Cetera Sotto Casa Fino A Mezzanotte Con Possibilità Che Sono Successi Tutti Che Sono Stati Anche Sono Stati Anche Degli Accontellamenti Parlo Dell'aria Tra Via Salomone Via Lungheria Praticamente Dietro Dove Abita Michele Ho Scoperto Che Abitava Lì Non Lo So Io Avevo Segnalato Tante Volte In Consiglio Di Zona E Solo Quindi Prevenendo Eccetera Eccetera Prevenzione Sta Nella Comunicazione Quanti Sanno Che È Un Reato Fare Barbecue Nei Parchi Quanto È Quello Che Si Paga Chi Interviene Abbiamo Anche Le GEV Che Partono Da Via Lungheria Sono Comunque Pubblici Ufficiali Che Possono Intervenire Oltre Che A Dare Le Multe Anche Intervenire In Caso Di Una Situazione Di Questo Passa Anche Attraverso L'operato Degli Intermediatori Culturali Ci Sono Tante Comunità Tive Nella Nostra Zona Più O Meno Coivote Dalle Situazioni Che Abbiamo Elencato Però Bisogna Come Abbiamo Fatto In Passato Risolta In Caratterizzante Della Lista Milano Comune Noi Chiediamo L'applicazione Dell'articolo 12 Del Regolamento Edilizio Che È Stato Votato Da Tutti In Un'amilità Nel 2014 Dove Praticamente Si chiede Questo Lo Leggo Velocemente Che Riguarda Gli Edifici Non È Stata Fatta Manutenzione E Non Utilizzati Per Più Di Cinque Anni E Già Ce Ne Sono Tanti Nella Nostra Zona Dove Questo Non Utilizzo Riguardo Almeno Il 90% Delle Loro Superficie Perciò Risultano Abbandonati Il Consiglio Comunale Se Il Proprietario Non Interviene E Si accerta Che Lo Stato Di Abbandono Di Degrado Urbano Ed In Cura Delle Aree O Degli Edifici Rappresenta Un Imminente Pericolo Per La Sicurezza Le E Gli Strumenti Previsti Dalla Legislazione Nazionale E Regionale Vigente Recuperare Le Aree Non Residenziali Dismesse E Sentire La Ligia Regionale Questo Se qualcuno di voi Credo che se lo ricordi Ha causato Grande Dibattito Scontro Tra L'amministrazione E Forza Del Centrodestra Noi Chiediamo Però Come Lista Che Questo Venga Ed è Il Nostro Obiettivo Venga Finalmente Applicato Mancano Luoghi D'aggregazione Ci sono Tanti Edifici Dove Possibile Trasformiamo Questi Edifici Naturalmente Partendo Dall'ascolto E Da Quello Che Vogliono Le Persone Che Ci Abitano Perché Non Possiamo Calare O Creare Delle Catedrali Nel Deserto Recuperare Queste Are Dismesse E Fare Quindi Degli Spazi Degli Spazi D'aggregazione Sociale Che Sono L'antidoto Alla Percezione Della Sicurezza Delle Insegurezza Spazio Ecco L'ultima Domanda Abbiamo messo Dei titoli L'alta Velocità Noi siamo Un piccolo Quartiere Molto Caratteristico Abbiamo Strade Grandissime Larghe Eccetera Ma abbiamo Anche strade Strettissime Piccole Senso Unico Che Non si Può Entrare Questa È una Caratteristica Difficile Conciliare La Soluzione Dei Problemi Quindi Abbiamo Problemi Di Alta Velocità Nel Quartiere Sia Le strade Larghe Che Quelle Strette Parcheggi Selvaggi Un po' Dappertutto Ma in particolare Piazzolidio Viabilità Sulla viabilità Siamo rimasti Dietro Un sacco Di tempo C'è la Metropolitana 4 Che sta Creando Dei Problemi Credo Che sia Utile Ritornare Su questo Discorso E Verificare Se La viabilità Attuale È Adeguata Ai Bisogni Dei Cittadini Accesso Al Quartiere Monoe Intendiamo Non solo La parte Che riguarda Venire Da Viale Forlanini Per entrare Nel quartiere Monoe In via Peccorini E quant'altro Da Viale Forlanini E dall'aeroporto Per andare Nel quartiere Monoe Bisogna andare In via Marco Bruto Bisogna andare Barriere Sono assorbenti C'è stato Da anni Continuiamo a parlare Di questo problema Sono state Fatti Farsi avanti Indubbiamente Ma non sono Sufficienti I cittadini Non sono Adeguatamente I cittadini Quindi Come dicevo Si ritiene Che per la Tipologia Del nostro Quartiere E per gli Abusi Che vengono Commessi Si debba Aprire un Confronto Con il Municipio Per individuare Delle Contromisure A tutti Dei cittadini Su questo Importante Tema Semplicissimo Vogliamo Dire Se è giusto Le Osservazioni Su queste cose Ma Richiediamo Anche Appena Qualcuno di voi Sarà Presidente E comunque Se non sarà Presidente Sarà comunque Nel Consiglio Io penso Anzi sarà Quest'altro così Aprire Nuovamente Un confronto Su questo Problema E in particolare Chiediamo Al Presidente O al nuovo Presidente O al nuovo Presidente Se siete D'accordo Appena Eletti Di fare Un incontro Su questi Problemi Dunque Io Come sapete Parlo Invece Del mio Collega Che purtroppo Sarebbe Andare Ma Viabilità Manutazione Gestione Delle strade E se non sbaglio È una delle competenze Che viene Assegnata All'Unicidio Direttamente Quindi E sarà il Municipio Direttamente Responsabile Della Monotenzione Delle strade Le proposte Del Movimento 5 Stelle Anche Per quanto riguarda La mobilità Nell'ambito Del singolo Municipio Non possono Che essere Correlate All'organizzazione Della viabilità Di tutta la città Quindi Noi prestiamo Molta attenzione A una mobilità Sostenibile Quindi Andremo Ad incrementare Il trasporto Pubblico A incrementare Gli artisti Ciclopedonali A limitare L'accesso A determinate Aree Della città Creando Aree Pedonali Quindi Oasi Verdi E di Tranquillità Appunto Per evitare Situazioni Di traffico Aggressivo Il problema Il problema Dei grandi Viali Da studiare Come da studiare Chiaramente La viabilità Della zona Per esempio L'inserimento Di sievi Che delimitano Le carreggiate O che comunque Creano Dei rallentamenti Forzioni Condotti O interventi Di questo genere E quindi Ripeto Il municipio Secondo me Io lo vedo Come una grossa Opportunità In realtà È una cosa Che un po' Spaventa Uno lo affronta Con prudenza Perché dice Quello che Non sappiamo Se arriveranno I finanziamenti Però è finalmente Quel decentramento Che ci consentirà Di controllare E monitorare Il territorio Qui da vicino Perché si sono Gli stessi cittadini Che possono guardare Una zona ristretta E denunciarla Da un'unità centrale Che incapa Solo quel territorio C'è più possibilità Che interessi Di pochi Vengono posti In evidenza E portati Ma a mano Verso il centro Sì Sicuramente Ok Al confronto All'incontro Su questi Su questi temi Post elezioni Posso Così come ho fatto Anche in passato Dare una disponibilità Nell'una Nell'altra veste Visto che Mi auguro Di farlo Presidente Quando ora Non fosse Non faccio altro Che ripetere Quello che ha detto Il mio collega Bassi È chiaro Che il discorso Dei parcheggi Della viabilità O l'accesso Al quartiere Piuttosto che Tutte le altre problematiche Non sono solo Dello specifico Di questa fetta Quella che era Una volta L'ex zona 13 Ma è comune In tutti gli altri Quindi è chiaro Che l'obiettivo È migliorare Il discorso Della viabilità Della viabilità Scusate Naturalmente Deve tendere a privilegiare Il trasporto pubblico Cioè doveva partire Mi risulta Dopo Expo Un piano di ristrutturazione Del trasporto pubblico locale Questo non è ancora partito Non so Per quali motivi Mi auguro Che parta Tenendo punto Eventualmente Delle nuove suggerimenti Che potrebbero Venire fuori Io sono convinto Che la comunicazione Aiuta Nel comprendere Alcune cose E quindi Quando partirà questo Visto che incide E sulle viabilità Anche questo sarà importante L'accesso Quartiere Il municipio Lo faremo Lo faremo Non solo io Con voi Ma con Presumo Ci sarà un assessore Che avrà La delega A questi temi Visto che ci sarà L'aggiunta Il municipio E dovremo Dividerci Tra quattro Queste deleghe Ma inviteremo Anche I tecnici Comunali All'incontro Perché sarà Un incontro In cui dovremo Vedere effettivamente Il problema E capire come risolverlo Quindi farlo Tra di noi Potremmo fare Ipotesi Farlo anche Con i tecnici Comunali Ci dirà Esattamente Come intervenire Sulle varie Probleme Prospettate Perché effettivamente La vostra viabilità Quei lavori di AME4 È stata stravolta Soprattutto nel quartiere Forranini E quindi capire Come affrontare E rivedere Un po' tutti i giri È una cosa Che possiamo fare Solo anche Con chi ha le competenze Reali Io vi ringrazio Moltissimo Penso Penso Di interpretare Il pensiero di tutti Che è stata Una bella riunione È stata Nel senso Cioè le cose Le abbiamo dette E Avevo Un'occasione 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 Avremo occasione Di vedere Quindi vi ringrazio Noi ci rivediamo ancora Vi invito a conservarvi Il documento Che avete Avuto E a questo Volevo Noi siamo questi Siamo quelli Che riteniamo Un diritto Dovere Di fermare Di fermare i tegrani Grazie 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 Noi ci rivediamo